Ci sono momenti in cui non riesci proprio a vedere il tuo programma preferito. Eventi improvvisi! Occasioni che non puoi davvero perdere. Per questo c'è Mediaset Extra. Mediaset Extra si è completamente rinnovata. Per offrirti il meglio di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 della stagione in corso. Mettiti comodo, perché su Mediaset Extra sei sempre in prima serata.